Italia è sempre più libera, con contagi in diminuzione e campagna vaccinale che ormai è corrispedita su tutte le fasce d'età. A breve, il cronoprogramma annunciato dal governo lo scorso maggio muterà nuovamente, spostando il coprifuoco, da prima posticipato dalle 22 alle 23 alle 24. Da lunedì 7, infatti, tutte le regioni gialle sposteranno l'orario del coprifuoco alla mezzanotte, eccezione fatta per le regioni che da lunedì passano in bianco, Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia, i cui abitanti non avranno limiti di orario agli spostamenti sul territorio. Il coprifuoco salterà definitivamente in vista del 21 giugno, quando tutte le regioni saranno bianche. Alcune regioni potrebbero vedere anticipata la rimozione del coprifuoco, riuscendo a diventare zona bianca entro il 15 giugno. Al momento, la campagna, dati alla mano, si prevede possa passare in bianco solo il 21 maggio. Nel mentre, i cittadini stanno lentamente tornando a riprendersi la loro normalità. Da lunedì coprifuoco a mezzanotte, cosa ne pensi? È importante per i magazzini, per la gente che magari rimane un po' di più versata. I contagi sono in diminuzione, si va verso la riapertura totale? Speriamo, ma io penso che ci dobbiamo mantenere calmi. Non esco proprio, sono cinque anni che non esco più di caso pomeriggio, quindi fanno bene, a mezzanotte va bene, ma oltre no. Da lunedì coprifuoco a mezzanotte, cosa ne pensi? Per me va bene, però dovrebbe anche andare, siamo noi che non facciamo niente di buono qua. I contagi sono in diminuzione però, si va verso la riapertura? Si va verso la riapertura, speriamo in bene, speriamo in bene. Da lunedì coprifuoco a mezzanotte, cosa ne pensi? È meglio che lo tolgano proprio, comunque già è qualcosa. Quindi lei va per una riapertura totale? Sì, sì, per forza, se no qua non viene nessuno, i turisti non vengono se la notte non possono andare a divertirsi un po'. Negli altri paesi vicini, Crescia, Spagna, Francia, a mezzanotte non c'è più il coprifuoco, la gente se ne va di là. Qua non viene nessuno, noi già siamo al di sotto delle aspettative, capito? Io penso che coprifuoco l'indomani si deve togliere, appena avremo dei dati migliori che comunque si stanno vedendo, vaccinazione a tutta forza, quindi perché ancora, capito? Secondo il mio parere, insomma, bisogna aprire per forza. Grazie. 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 Grazie.